eccoci qua buongiorno buongiorno sapete chi è lei lei e puff aveva ricordate puff qualche un paio d'anni fa quando sta ritrovata giù a taranto provincia di taranto con suo fratellino chester ecco c'è stato adottato da tanto tempo fa invece lei puff ea casa mia la casa mia e niente si sta abituando alla vita di famiglia è molto timida più che altro ha paura dell'essere umano per il resto il rumore tutto il resto non la spaventano così tanto riesce a reagire molto molto bene dobbiamo ancora lavorarci un po su sicuramente sì con puff lei ha due anni è sanissima è un bellissimo cane di quasi 25 kg e avrete la possibilità se volete di venirla a vedere di persona perché il 15 maggio avanzaghello c'è una giornata dedicata alle adozioni e porteremo anzi porterò perché ci sarò io e porterò puff e porterò anche quella signorina lì che è odri eccola adesso ve la faccio vedere più da vicino sia odri che puff viene domenica 15 maggio avanzaghello al mattino ci sarà la giornata delle adozioni quindi chi volesse conoscere puff questa meravigliosa timidona gigantona bella gigantona 25 kg se chi la volesse conoscere può avvenire domenica avanzaghello vi aspettiamo va bene ciao 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 ciao